giovedì 26 maggio 2022 ore 7 e ora della rassegna stampa ben trovati amici per quanto riguarda la rassegna stampa di fano tv insieme daremo un'occhiata ai giornali questa mattina con cronaca locale il resto del carlino e il corriere adriatico come tutti i giorni e cominciamo la nostra trasmissione con il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia non un santo ma un evento un evento molto molto particolare è l'ascensione di gesù 40 giorni dopo la pasqua il giorno della ressurrezione e dopo tutte le comparse che gesù fece ai suoi discepoli vi ricordate quella famosa nei confronti di san tommaso ebbene gesù salì al cielo lo fece sul monte dell'ascensione di fronte a gerusalemme dove ora si trova un tempietto circolare che risiede che risale presso poco all'anno mille ebbene lì si trova una pietra una pietra con l'impronta che si dice dei piedi di gesù è l'ultima orma che gesù lasciò sulla terra prima di salire al cielo e beh è un atto di devozione comunque un luogo importante è in cima al monte degli olivi e di là si vede una meravigliosa visione un bellissimo panorama della città santa e ora diamo un'occhiata al tempo vediamo che il tempo è leggermente cambiato rispetto rispetto alla giornata di ieri oggi ci sono le nubi in cielo l'azzurro è velato addirittura questa mattina il colle dei di monte giove era un offuscato dalla nebbia ma era qualche nube bassa che si era insinuato tra le celle del convento comunque è caldo è caldo la temperatura si aggira sempre sui 30 e 31 gradi giornata asciutta ma con una nuvolosità a tratti più compatta specie sui settori centro settentrionali della regione i venti ispireranno da una direzione dal est per quanto riguarda la costa e da nord est per quanto riguarda all'interno ci ho detto apriamo il giornale il Corriere Adriatico oggi sulla pagina di Fano e vediamo come ieri è stato presentata la edizione estiva delle carnevale di Fano a partire dalle manifestazioni del 4 e 5 giugno prossimo dedicate in modo particolare ai bambini sarà un carnevale in centro storico mentre poi quello di agosto sarà un carnevale marittimo diciamo così perché la maggior parte si svolge sui viali della Sassonia comunque ci sono tante belle iniziative dedicate ai bambini e ieri a presentarle sono stati l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli devo dire che la città dei bambini non è più solo uno slogan per quanto riguarda il comune di Fano ormai non c'è una manifestazione oltre a quelle a loro espressamente dedicate che non riservi una parte ad intrattenere i più piccoli e anche il carnevale non poteva non dedicare una sua parte ai bambini si parte dunque sabato alle ore 17 nel cuore della città con una sfilata di carri di seconda categoria che percorreranno corso Matteotti e poi confluiranno in piazza 20 settembre e poi ci saranno tante altre iniziative ci saranno laboratori creativi trucchi per i bambini di spettacoli ed un concorso originale quello dei mini carri ideato da Paolo del Bianco un concorso che consente ai bambini di realizzare dei piccoli modellini e il migliore addirittura sarà il modello per essere trasformato in un carro vero e proprio un carro di seconda categoria che sfilerà nel carnevale del 2023. Andiamo ora a notizia degli altri avvenimenti il giornale parla anche del passaggio delle consegne tra il nuovo e il vecchio segretario della CISL di Fano si tratta di Bartolucci Leonardo Bartolucci 50 anni provenienti dalle schiere dei metalmeccanici di cui è stato addirittura segretario di federazione a livello regionale subentra a Giovanni Giovannelli che ha avuto l'incarico della zona di Senigallia una zona estesa che comprende anche Iesi e Fabriano e comunque Giovannelli si porta dietro tutta l'esperienza maturata in nove anni alla guida della CISL di Fano. Ebbene Bartolucci non è un novellino, Bartolucci è un uomo molto impegnato a livello sindacale che ora tratterà con l'amministrazione comunale il primo incontro in programma e il 31 maggio tratterà ovviamente per quanto riguarda il bilancio, il sostegno alle imprese e tutti i problemi anche quello abitativo che coinvolgono la città di Fano. La priorità è la sicurezza e i dossi la garantiscono. È la risposta che i residenti di Roncosambaccio danno alle proteste degli autisti che si erano lamentati per la sistemazione dei dossi nelle vie del paese. Dicevano che avrebbero danneggiato il fondo dei loro veicoli. Comunque andando piano questi sobbalzi non si verificano e quindi i fondi dei veicoli rimangono sani e quindi i dossi mostrano la loro funzionalità. Di questo ne sono convinti i residenti che hanno espresso la loro soddisfazione. Avete sentito anche ieri nel Tg di Fano TV i residenti appunto lodare l'iniziativa dell'assessore Tonelli che ha sistemato la sicurezza all'interno della frazione. Le terme di Carignano, luogo del cuore FAI, già secondo sito regionale, eseguita la bonifica degli accessi sotterrani. Ebbene anche le terme di Carignano sono in concorso tra i luoghi del cuore promossi dal FAI e per i quali si può votare fino a fine anno. 103 i clic che si sono già guadagnate, le terme, sono ancora poche devo dire, dobbiamo ancora insistere, fare di più, conquistando per ora il secondo posto tra i siti marchigiani. Soltanto 5 preferenze in più per Montefabri. Insomma è una gara tra Montefabri e Carignano a Vincende, sono due posti bellissimi, ovviamente i fanesi terranno per le terme di Carignano. La scoperta del secolo e la tomba di Vitruvio, magari fosse veramente così, ma così l'hanno immaginato gli artisti del San Costanzo Show che ieri hanno tenuto uno spettacolo al Politeama. La ricchezza archeologica del sottosuolo fanese viene così evidenziata, ma forse anche lì per seguita, prima la Basilica di Vitruvio, poi addirittura la tomba del grande architetto romano. Ebbene due cose che si ipotizzano ma non ci sono, non si trovano, non è che non ci siano ancora, non si trovano. Qualcuno è convinto che ci siano e quindi dovranno continuare gli accertamenti, gli scavi, i sondaggi per verificare l'esistenza di queste due grandi persistenze archeologiche. Passiamo ora a Fossombrone. Passiamo a Fossombrone dove c'è una bellissima iniziativa dell'assessore Laura Giombini che ha organizzato una tessera che dà la precedenza nei supermercati, insomma in tutti i luoghi dove si fanno le file, a chi è affetto da autismo. Tra inclusione e gentilezza pronto il pass per l'autismo darà la precedenza nei supermercati e negli uffici per evitare condizioni di stress. Ne sappiamo come purtroppo coloro che sono affetti da autismo siano magari insofferenti, impazienti per quanto riguarda determinate situazioni critiche e questa tessera dà loro la possibilità di sveltire le loro attese. Bella questa iniziativa. Le testimonianze dei ragazzi contro la mafia a Colli al Metauro è il risultato di una performance delle terze della media Leopardi nelle trentennale della strage di Capaci. A Mondolfo cultura, sport e assistenza, le idee maturate dei bambini sono le proposte del consiglio degli allunni presentati al sindaco nella seduta comune. Ebbene si è verificato anche a Mondolfo, dopo che è stata fatta la stessa cosa a Fano, il consiglio congiunto con il consiglio comunale dei bambini svoltosi martedì pomeriggio guidato dalla presidente Serena Pennoni. Ebbene in questa occasione i bambini hanno presentato le loro istanze. Che cosa vogliono? Vediamo qualche loro richiesta. E molti hanno richiesto miglioramenti per la pista polivalente degli impianti sportivi di via Fermi, Fontanella, realizzazione di un chiosco, ma anche nuovi artistici murali nelle strutture del centro. E poi c'è chi ha chiesto la proiezione di film dedicati ai bambini anche in riva al mare. Ed è stata un'altra istanza più volte formulata, quella con iniziative aperte alla polizia delle spiagge e degli abitati, con l'installazione di nuovi giochi, cestini rifiuti, implementazione dei servizi di biblioteca, realizzazione di un centro aggregativo e multimediale polivalente, costruzione del teatro ed impianti sportivi. Una serie di iniziative che rendono la città più a misura dei bambini e danno la possibilità ai bambini di coltivare i loro interessi nei diversi campi, quello dello sport, quello della cultura, quello del gioco, quello del divertimento. Vediamo la pagina di Senigallia. La pagina di Senigallia, un tuffo dove il mare è più blu. L'ARPAM ha eseguito i controlli per quanto riguarda la qualità delle acque e l'ha trovata eccellente. L'assessore Campagnolo, siamo tra le spiagge i migliori, ha evidenziato con soddisfazione ed è stato potenziato anche il numero dei bagnini in servizio. Gli ispettori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'ARPAM, hanno prelevato il 27 aprile 17 campioni e il 9 maggio sono stati analizzati. Ebbene, per tutti i prelievi campionati il risultato è stato il massimo che si poteva ottenere. La qualità delle acque è buonissima, bellissima, insomma è trasparente, è chiara, è salubre. Ora si alleggerisce la tassa dei rifiuti grazie al tesoretto dei fondi Covid. Ebbene, dobbiamo dire che in questo Senigallia rappresenta un'eccezione perché mentre in provincia di Pesaro la tassa su rifiuti viene aumentata tra il 3% per quanto riguarda le famiglie, magari il 2,7% oppure il 10-12% come ipotizza qualcuno a carico delle imprese, a Senigallia invece c'è un tesoretto che l'amministrazione comunale può utilizzare per alleviare l'importo della tassa sui rifiuti. La manovra è di mezzo milione di euro, è stata approvata dalla Giunta e sono previste agevolazioni a famiglie e imprese. Ebbene, questo è un caso unico, più unico che raro. Ed ora apriamo il giornale per quanto riguarda la cronaca di Pesaro. Vediamo che ancora l'immagine del Centro Storico acquista la prima pagina. Oggi si parla di decoro in Centro Storico, il giro di vite sui controlli. Non solo per ottenerlo, ma anche per mantenerlo. È la guerra al brutto. Saranno rafforzati i controlli sui permessi di occupazione del suolo pubblico, sulle concessioni integrative di suolo, rilasciate dopo l'emergenza Covid, e valide fino al 30 giugno prossimo. E poi controlli anche sui deors, sulle fioriere, sugli ex chioschi immobili ora abbandonati. Si vuole che questi non costituiscono un'immagine degradata, un'immagine brutta, insomma, che dequalifica poi la città di Pesaro. E quindi sono stati affidati alla GEA della Municipale. Tutti i controlli saranno effettuati proprio prossimamente e riguarderanno i tre anni concessi alle attività per adeguarsi alle regole, dovranno stabilire se queste attività si sono veramente adeguate oppure hanno preso i contributi e poi, insomma, si sono messi in tasca. Restyling di Piazza del Popolo, purtroppo siamo sullo stesso argomento, ma questi lavori di rifacimento di tutto il selciato della piazza langono. I lavori affidati, ma l'iter è in salita, insomma, sono stati affidati ad un'impresa, ma però, insomma, si tarda ad iniziare. Il problema è costituito dal rifornimento di materiali e di mano d'opera. Salta a questo proposito anche il mercatino francese. Ebbene, a questo punto l'assessore Pozzi vuole così dare una svegliata alla ditta di almeno ne faccia un pezzo, ne faccia una parte di questo selciato, perché altrimenti, insomma, passa il tempo e poi nulla si fa. Picchiala, qui abbiamo, siamo arrivati alla cronaca, abbiamo qui due pagine, purtroppo che vediamo come ancora le donne siano vittime della violenza degli uomini. Qui c'è la sentenza all'uomo che ha ucciso la moglie con 12 coltellate, è stato condannato a 24 anni. Si tratta di Vito Cangini, 80 anni, dicevo, a cui il Tribunale ha dato questa sentenza piuttosto severa. L'uomo è distrutto, ma è sollevato, dice un titolo, di aver evitato l'ergastolo. Ma se ha 80 anni e ha avuto 24 anni di reclusione, insomma, tra il correre e il fuggire affano, si dice, è la stessa cosa, perché in realtà, vabbè, io gli auguro tutta la vita possibile e immaginabile, ma comunque questa è una pena veramente che potrebbe equivalersi all'ergastolo. Uccise la moglie, Natalia Kirikok, di 61 anni, che era cuoca di un ristorante, per questioni di gelosia. Pensava, insomma, che lo tradisse con il proprietario del ristorante. Illegali, non è femminicidio, prima nessuna violenza. Vabbè, insomma, questa è la tesi dei legali. E qua è un altro caso. Picchia la compagna minorenne è incinta. Purtroppo non era la prima volta che accadeva questo fatto. L'uomo è stato denunciato dalla madre della ragazza, che si era accorta di quanto stava accadendo da una fotografia che ritraeva la figlia con delle echimosi al volto. Era sanguinante. E quindi la donna lo ha denunciato. La ragazza, la figlia, è una giovanissima, è una minorenna, addirittura 17 anni. Compierà 18 anni tra pochi mesi. È la storia di una coppia giovanissima, lui, 21 anni, albanese. Lei, 17, residente a Pesaro. Una storia difficile, violenta, in cui lui era arrivato anche a dirle ti prendo a pugni sino a quando non ti faccio abortire. Insomma, è anche il risultato di una cultura ancestrale che vede sempre l'uomo sopraffare la donna e magari usare anche metodi maneschi per imporsi. Non era, dicevo, la prima volta che questo accadeva. Già una seconda volta, a gennaio del 2022, un fatto analogo era accaduto. Poi ancora un terzo caso, un terzo litigio, una discussione degenerata, tanto da far alzare nuovamente le mani. Lui l'aveva procurato una ferita al naso. E questo è l'ultimo episodio, ha spinto appunto la madre della ragazza a denunciarlo. Aggredisce la moglie in tre giorni e due arresti. Adesso la condanna è a due anni di reclusione. Questo è il terzo caso di violenza sulle donne che segnala oggi il Corriere Adriatico. Due arresti in tre giorni per le aggressioni alla moglie. C'è la condanna. La scorsa settimana un 58enne si era scagliato contro la moglie in strada ed era stato necessario l'intervento della forza pubblica. L'uomo era stato arrestato, poi liberato, con divieto di avvicinamento alla moglie. Ma che cosa ha fatto? Ebbene, un altro episodio di violenza. Quindi ha aggredito ancora una volta la moglie in piazzale Primo Maggio. Ebbene, a questo punto, per evitare guai peggiori, insomma, è stato arrestato anche per così avere violato il divieto di avvicinamento alla donna. E per questo appunto è stato arrestato di nuovo. La condanna ha due anni di reclusione. Tre episodi significativi. Come ancora questo problema della violenza alle donne non è affatto superato ed è soprattutto un problema di carattere culturale, oltre che fisico. Vediamo anche un'altra notizia. Si parla di mobilità green sul Corriere Adriatico oggi perché nel comune di Pesaro sono in arrivo 400 nuovi mezzi tra monopattini e biciclette a pedalata assistita. Serviranno in modo particolare i turisti che vorranno visitare la città, ma anche i pesaresi che vorranno spostarsi senza problemi di parcheggio da una parte all'altra del centro storico. La prossima settimana saranno già in strada i primi 250. Sono della Bird Riders che si è aggiudicata la gara che è stata pubblicata dal comune. E per quanto riguarda la ciclabile e il sottopasso, Vismara e Torraccia ora sono più vicine, è stata aperta la procedura negoziata per la linea. L'assessore Belloni, che vediamo qui in questa immagine, dice che entro l'estate partiranno i lavori. Carita si scommette sui giovani, desiderano mettersi in gioco. Sono tre progetti per sperimentare diverse forme di volontariato anche all'estero, che sono state, scusate, ecco, non avevo messo il titolo nel video, sono diverse forme di volontariato che può così dare la prospettiva di manifestarsi anche all'estero. Vediamo di cosa si tratta. Si tratta del progetto Young Caritas, che prevede la possibilità per due ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, di prestare servizio alla Caritas di Ocesana per un anno per 25 ore settimanali, 500 euro è il compenso mensile. Il secondo progetto Caritas Camp nasce dalla ripresa, dopo la pandemia, di un'attività molto cara a Caritas. Gli incontri con i ragazzi delle scuole superiori di Pesaro. E poi il terzo progetto, Remap, è un progetto regionale che coinvolge 13 diocesi, e anche quindi quella di Pesaro. Scopo è quello di fornire ai giovani tra i 20 e 26 anni la possibilità di partecipare al volontariato internazionale e quindi all'estero. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino, dove vediamo che l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata allo sciopero, alla contestazione che fanno i pescatori. I pescatori dell'Adriatico sono tutti in sciopero e quindi anche quelli della flottiglia fanese. Fronte del porto i marinai sono sulle barricate. La ragione di tante proteste è da individuarsi nell'aumento del costo del gasolio, che rende ormai improduttiva l'uscita in mare e quindi le spese sarebbero superiori ai ricavi e quindi i pescherecci sono all'ancora. Continua dunque lo sciopero dei motopesca per il caro carburante e c'è stata anche una spedizione a Cesenatico per bloccare i colleghi che volevano andare in mare nonostante appunto le perdite. Occorre che la categoria sia compatta, è stato detto, per far sì che il governo approvi dei sostegni alle imprese, soprattutto approvi un bonus per far calare il prezzo della fonte energetica, ovvero del gasolio. Torna ancora più bello il Carnevale dei Bambini. È in programma il 4 e 5 giugno a Fano. È stato presentato ieri dalla Presidente Gian Marioli e dall'assessore Luca Relli, ricco il carne di iniziative. E poi ci sarà anche un altro appuntamento, quello del 13, 14 e 15 agosto, con la sfilata dei carri di seconda categoria sulle lungomare. Invece per quanto riguarda il Carnevale dei Bambini, l'abbiamo detto prima, è la sfilata con due mini carri, due carri di seconda categoria diciamo, non mini carri, sono sempre molto belli. Uno di Gradara e uno è stato realizzato dagli studenti dell'Apolloni, del liceo artistico Apolloni, sfileranno per il corso cittadino fino a convergere in piazza 20 Settembre. E poi una poetessa locale. Si parla di Giulia Orciari oggi sui giornali, una poetessa in erba che sa già come toccare le corde dell'anima. Giulia Orciari, 16 anni, di cartoceto, ha già rivelato la sua sensibilità poetica, tanto da raccogliere diversi riconoscimenti in tutta Italia. Questo mese Giulia ha vinto il premio nazionale di poesia, l'arte in versi di Senigallia, il premio speciale per il miglior giovane poeta con la composizione Madre Innocente, premiata dalla giuria, perché, dice appunto la motivazione, tra virgolette, la scelta di un dettato stilistico essenziale realizza un piccolo florilegio di intimità espressiva. Veramente un componimento di grande sensibilità. Vediamo ora quello che sta accadendo tra Fano e Marotta. C'è un duello al Tar per quanto riguarda la proprietà di due beni. Si tratta della scuola Fantini, in via Damiano Chiesa, ed è il locale dell'ex farmacia comunale gestita, no l'ex, della farmacia comunale gestita da Aset, che ricade nel territorio di Mondolfo. Tutta Marotta fanese è passata sotto il comune di Mondolfo, ma il comune di Fano rivendica ancora, se non la proprietà amministrativa, almeno la proprietà reale di questi locali. Ad Urbino, il sindaco Gambini, crisi Eurotrend, garanzie per i lavoratori, è quanto chiede il primo cittadino della città ducale. La COP, che offre servizi essenziali a 30 comuni della provincia, è in affanno e subentra la seconda classificata al bando. I dipendenti non hanno avuto lo stipendio, per quanto riguarda l'Eurotrend, non l'hanno avuto da aprile e da febbraio aspettano di avere la tredicesima per intero. Siamo molto, molto preoccupati, hanno dichiarato. Tra i dipendenti di Eurotrend, sono 200 quelli residenti nella provincia di Pesaro Urbino. Ebbene, la cooperativa, esperta in servizi socio-assistenziali, era questo l'ambito operativo, servizi alla persona, sono gestori anche di servizi educativi e assistenza alla disabilità. Inoltre 30 comuni, non solo ad Urbino, ma 30 comuni tra Pesaro e Urbino, ebbene, questa solidità di questa cooperativa scricchiola, tanto che i sindacati, la funzione pubblica della CGL e la Fisascat della CIS hanno decretato lo stato di crisi. Insomma, c'è animazione, c'è vertenza per quanto riguarda questa situazione. Urbino e le città del libro, omaggio a Tonino Guerra. Da venerdì a domenica, il festival di Alessio Torino porterà in città grandi autori, spettacoli e mostre. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del resto del Carlino. Qui abbiamo un caso particolare, un caso in cui la parola miracolo non stona. Gli diede l'estrema unzione, poi il miracolo. Ora, battezzo sua figlia, ha vinto la vita. È il racconto di Don Mario Florio nei confronti di una persona si chiama Marco Manzini, che era gravissimo in ospedale, tanto che il sacerdote gli diede l'estrema unzione. Però, che cosa è accaduto? È accaduto che qualche volta queste malattie gravi si risolvano. Non avviene sempre, ma qualche volta sì. Ed allora rinasce la vita, fiorisce una nuova speranza. E in questo caso, la nuova speranza è stata data dalla nascita della piccola Naomi, un segno per tutti. Ebbene, lo stesso sacerdote che ha dato l'estrema unzione a Marco Manzini ha poi battezzato questa piccolina che è nata per un nuovo futuro. Una bella storia. Niente guardie mediche e caos anche a giugno. Confermata la chiusura per i presidi di Gabice e di Montecchio, in città l'apertura resta garantita soltanto nei fine settimana. Biancani, il consigliere regionale del Partito Democratico, attacca. La Regione continua a non garantire servizi essenziali. E quello della Guardia Medica è veramente un servizio essenziale. E poi anche sul Carlino abbiamo i progetti della Caritas che scende in campo per i giovani. I tre progetti per quanto riguarda il servizio civile. E l'arte contemporanea invade Gradara. Dal 10 giugno al 10 luglio torna la mostra diffusa in diverse sedi espositive. Era l'ultima notizia. A questo punto non mi rimane che chiudere i giornali, salutarvi e darvi appuntamento a domani alle ore 7. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. a domani a domani a Beer